Oggi ragazzi inizia una nuova serie, la 5 Seasons Challenge, in cui in ogni video andrò a prendere una squadra e cercheremo per 5 stagioni di farle vincere più trofei possibili, con però delle limitazioni sul mercato. Infatti per ogni stagione potremo fare al massimo 2 acquisti, terremo conto di tutti i vari trofei vinti e ogni trofeo avrà un suo punteggio, come la vittoria della Champions League, dello scudetto, e dovremo stare attenti anche a non essere esonerati, perché anche in quel caso avremo un meno 5 e la challenge sarà conclusa. E la squadra che ho scelto per iniziare questa challenge sarà la Fiorentina, la Fiorentina che secondo me è una squadra perfetta per iniziare questa nuova serie, ditemi secondo voi quanti trofei riusciremo a vincere e sono molto contento di iniziare con la Fiorentina perché i ragazzi di UFO Calcio mi hanno mandato una delle mie maglie retro preferite, quella della Fiorentina sponsor Nintendo con dietro Batistuta, veramente secondo me una delle migliori maglie retro almeno della serie A. Se volete anche acquistarla o volete maglie retro o qualsiasi maglia della nuova stagione di qualsiasi squadra vi lascio UFO Calcio in descrizione e attiva anche una promo natalizia incredibile al miglior dell'anno, infatti fino al 26 dicembre per ogni maglia che andrete ad acquistare di qualsiasi tipo avrete un'altra maglia a vostra scelta completamente regalata da UFO Calcio. Vi lascio tutte le info in descrizione per accedere alla promo entro il 26 dicembre ripeto dovrete utilizzare il codice IAS10 per avere anche la spedizione gratis dai 79 euro in su. Dettoci ragazzi questa è la formazione di partenza della Fiorentina una squadra che ripeto farà anche la Conference League quindi avremo anche la possibilità di vincere la Conference e quindi fare dei punti aggiuntivi, avremo la Coppa Italia, il campionato che non credo riusciremo a vincere la prima stagione ma spero nel corso di queste 5 stagioni di riuscire a vincerlo. Possiamo fare ripeto due acquisti e direi subito di partire con il primo. Il primo acquisto che voglio fare ragazzi è un giocatore che è in prestito ossia Arthur che sta facendo molto molto bene con la Fiorentina quindi credo che verosimilmente sarà riscattato. Proverei ad andare con 15 milioni tanto per la Juve è un esubero vogliono Castrovilli che in realtà è un giocatore in uscita ma non vorrei darlo alla Juve quindi togliamo lo scambio riprovo 15 milioni. E la fine si è la Juve che il giocatore hanno accettato e quindi eccolo qua il primo acquisto Arthur che resta da noi era già la Fiorentina ma resta a titolo definitivo. Ora vorrei migliorare la difesa un difensore centrale secondo me serve abbiamo Milenkovic abbiamo Martínez Quarta che preferirei tenerlo magari come riserva a prendere un titolare. Il giocatore che voglio puntare è Schuttalo dell'Ajax ex Dinamo Zagabria la Fiorentina lo voleva poi alla fine è finito all'Ajax Ajax che non sta facendo benissimo secondo me potrebbe accettare di venire da noi. Proverei Ierimina più 15 milioni credo che Schuttalo costi sui 20-25 milioni quindi comunque è una buonissima offerta vogliono 21 milioni ma vogliono Ierimina. Proviamo allora ad alzare a 16 milioni vediamo un po' cosa dice l'Ajax hanno accettato e quindi abbiamo anche il secondo acquisto e così abbiamo completato i nostri acquisti. Bene ragazzi questa è la formazione con cui affronteremo la prima stagione sono molto fiducioso perché comunque è una squadra con tanto talento con giocatori potenzialmente che potrebbero diventare veramente forti. Ripeto avremo anche la Conference League abbiamo anche la Supercoppa Italiana attenzione perché potrebbe portarci un trofeo e un punto in più per questa challenge ma soprattutto punto tanto sulla Conference. Questo è il girone andiamo a simulare la prima stagione vediamo un po' se riusciremo a vincere qualche trofeo. Bene ragazzi si è chiusa la prima stagione l'abbiamo chiusa al sesto posto devo dire niente male 70 punti il prima stagione con la Fiorentina veramente buono saremo sicuramente di nuovo in Conference League ma in realtà dipende anche da cosa è successo in Coppa Italia dove gli ottavi abbiamo battuto il Parma ma purtroppo siamo usciti ai quarti contro il Napoli Napoli che poi è arrivato in finale e l'ha vinta contro l'Inter il Napoli quanto è arrivato in campionato ha vinto il campionato e quindi dovremo essere in Europa League. Purtroppo l'Inter ha vinto la Supercoppa Italiana siamo usciti con il Napoli quindi siamo ancora 0 trofei vinti e 0 punti fatti e abbiamo vinto il girone siamo passati come prime anche se è stato un girone molto combattuto Conference su cui ripeto punto veramente tanto agli ottavi abbiamo battuto il Brugge in quarte abbiamo battuto anche il Ghent quindi due squadre belga eliminate in semifinale abbiamo battuto anche l'Ill d'altra parte due squadre turche e saremo in finale contro il Begiktas. E ragazzi direi che siamo pronti per affrontare questa finale possiamo vincere il nostro primo trofeo contro il Begiktas di Rebic Chamberlain hanno qualche giocatore interessante ma secondo me sulla carta siamo nettamente favoriti dopo che la Fiorentina l'ha persa l'anno scorso con l'USM quest'anno secondo me può vincerla. Non giocherà Maximo Lopez andiamo a simulare incrociamo le dita e vinciamo con gol di Beltran e Brecalo per loro Rebic non è bastato e quindi ragazzi vinciamo il primo trofeo di questa 5 season challenge con la Fiorentina primo trofeo e primi 3 punti no 2 punti non mi ricordo 3 punti o 2 punti. E ragazzi appena controllato in realtà sono 4 punti quindi ancora meglio tenete il conto sia dei punti sia dei trofei che magari potrei anche sbagliarne il conto ma in realtà spero di non sbagliare. Andiamo a vedere le statistiche anche perché voglio tener conto sia di chi avrà fatto più gol che più assist in questa 5 season challenge e quest'anno il capocannoniere è stato il giocatore più forte per distacco. Nico Gonzalez 24 gol e 5 assist molto bene anche Enzola che è stato il titolare in attacco ma ha fatto molto bene quindi per me va benissimo anche Brecalo è stato il titolare in realtà sulla sinistra quindi non hanno giocato alcuni di quelli che avevo preso in considerazione. Vediamo a livello di assist e il migliore è stato Barak che ha giocato come titolare da trequartista quindi Barak miglior assistman con 9 e miglior realizzatore per il momento capocannoniere Nico Gonzalez con 24 gol. E' iniziata la seconda stagione abbiamo perso Maxime Lopez che è tornato al Sassuolo costa tantissimo quindi lo andrò a prendere tornato tra l'altro anche a Mrabà che però andrò a vendere perché non credo che tornerà a Fiorentina. Ma a centrocampo direi che siamo coperti quindi lo andrò a fare il centrocampista almeno per quest'anno ma voglio fare un trequartista Barak per ora è il titolare ma vorrei prenderne uno giovane che possa magari già quest'anno giocarsela con lui visto che anche Buonaventura sta andando verso i 35 e verso il ritiro. E il giocatore che vorrei andare a prendere ragazzi è Baldanzi dell'Empoli italiano non so sinceramente quanto valga provo a fare una prima offerta da 35 milioni Baldanzi lo voglio veramente tanto ripeto ce lo vedrei da dio con la maglia della viola ma sono troppi pochi dobbiamo offrire molto di più. Nel frattempo comunque abbiamo venduto Amrabat che va al Barcellona ricordo che il Barca anche in realtà lo voleva quindi anche realistico e mi stanno arrivando anche tantissime offerte per altri giocatori incluso Arthur che sto valutando se vendero o meno. Nel frattempo provo a fare un'altra offerta all'Empoli questa volta molto più alta 30 milioni più il cartellino di qua me non lo vogliono ma vogliono 58 milioni. Andiamo a 50 è proprio il massimo a cui posso arrivare sto andando oltre a quello che volevo spendere ma questo è un colpo che se riusciamo a fare è veramente un gran bel colpo. Ed è un 80 di overall ok quindi stesso livello di Barak Buonaventura è sceso pure a 75 Terraciano in scadenza e si andrà a ritirare e poi abbiamo Christensen che l'anno scorso ha giocato tanto ma secondo me non è proprio un portiere di assoluto livello è un buon secondo anche per il futuro non abbiamo un terzo portiere però devo valutare un pochettino vediamo se vendere Arthur o fare il portiere. E niente ragazzi alla fine ho deciso di andare sul portiere sarà Sergio Rico un terzo portiere di assoluto livello un gigante tra l'altro in confronto ad italiano un colpo a parametro 0 è un 75 perfetto a 0. E' uscito il girone di Europa League 20 Rangers e Helsinki sarà le squadre che affronteremo con questa squadra credo che sia assolutamente fattibile almeno superare il girone ma ovviamente vorrei vincere un trofeo anche quest'anno magari anche la Coppa Italia andare bene in campionato magari ricercare anche di prendere il quarto posto vedremo un po' come andrà. E quest'anno ragazzi siamo arrivati al quarto posto che vuol dire Champions League la prossima stagione vuol dire anche un punto per la qualificazione in Champions League che si aggiungono ai 4 dell'anno scorso però vediamo se abbiamo vinto qualcosa anche quest'anno. Partiamo dalla Coppa Italia siamo arrivati in finale abbiamo vinto 3 a 0 contro il Napoli tanta tanta roba il che vuol dire che sono altri 3 punti quindi siamo ad 8 punti complessivi e 2 trofei vinti vediamo la Europa League dove non abbiamo vinto il girone ma siamo arrivati secondi con i Rangers che ci hanno battuti sono arrivati i primi quindi abbiamo fatto il turno preliminare col Marsiglia che però abbiamo vinto tanta roba perché il Marsiglia arrivava dalla Champions League ottavi con l'Atletico Madrid mamma mia che avversari toste. Siamo comunque passati abbiamo battuto il Milan era veramente tosta forse a parte United e Chelsea era quella più difficile di queste partite anche se sono tutte veramente veramente toste in semifinale poi purtroppo abbiamo perso con lo United veramente peccato ci credevo in questa Europa League finale tra United e Roma non so però perché non c'è non c'è Terracciano che fine ha fatto Terracciano? A quanto pare è andato all'Ipsia me l'ha venduto la società era in scadenza ma è andato all'Ipsia è ancora un 80 di overall sarebbe stato il mio titolare probabilmente anche se l'anno scorso Christensen ha giocato ma me l'hanno venduto meno male che avevo preso Rico. Comunque sia l'anno prossimo dovremo fare il portiere ma non dovremo fare penso l'ala destra Nico Gonzalez giocatore pazzesco 26 gol che si aggiungono ai 24 dell'anno scorso quindi 50 gol complessivi e capocannonieri in assoluto di questa Five Seasons Challenge molto bene anche Brecalo. A livello di assist comunque Barak ancora ha fatto molto bene 11 assist che si aggiungono ai 9 o 8 dell'anno scorso inizia la terza stagione per la Champions League il primo colpo deve essere il portiere al Genoa è finito uno dei migliori portieri giovani al mondo che è Restes e al Genoa è secondo me perfetto che possa venire da noi. E ragazzi vi dico la verità potrei anche provare ad offrire un mio esubero che è Castrovilli che non mi serve lo vogliono più 17 milioni e 9 e vi dico la verità è una cifra veramente buona perché lui vale 39 milioni e quindi vado ad accettare e con lui secondo me siamo più che coperti abbiamo una rosa ora veramente lunga qualcosina andrò a sfoltire il primo colpo lo abbiamo già fatto il secondo ragazzi probabilmente sarà un nuovo centrocampista perché abbiamo Arthur abbiamo Mandragora ma secondo me serve un bel centrocampista magari un bel medianato che riesca a fare lavoro sporco il colpo che voglio provare a centrocampo è Kefren Thuram il fratello del Thuram dell'Inter sarebbe anche bello che entrambi siano in Serie A e magari si affrontano anche se non so se Thuram è ancora l'Inter proviamo quindi 45 milioni vediamo un po' cosa dicono 63 milioni e 7 mamma mia costa veramente troppo non posso permettermi di spendere una cifra simile posso arrivare massimo a 50 milioni altrimenti andiamo su un altro nome che ho già in mente vediamo un po' cosa dicono serve tempo ok l'ho detto che è inaccettabile vogliono 56 milioni e 8 proviamo ad offrire qua a me vediamo se potrebbe andare al Nizza se lo vogliono sarebbe perfetto ok lo vogliono più il 5% va assolutamente bene accettiamo ed eccolo qua quindi Thuram con la sua numero 17 con la male della Fiorentina questo è un vero colpo per la Champions League e siamo finiti nel girone del Real Madrid con il Galatasaray e la Dinamo Kiev che vabbè sono abbordabili però con Real sarà veramente dura però mi piace come è stata costruita la squadra mi dispiace soltanto per Martina Esquarta che con un anno di contratto e ha chiesto la cessione non l'ho venduto lo sto tenendo sperando che magari vorrà rinnovare altrimenti lo perderemo a zero ma non potendo fare un altro acquisto ho preferito tenerlo quest'anno e poi al massimo l'anno prossimo sostituirlo e quest'anno ragazzi abbiamo chiuso al quinto posto abbastanza lontano dal quarto posto ma non tantissimo dallo scudetto purtroppo però l'anno prossimo non faremo la Champions League saremo comunque in Europa League ora poi dovremo vedere anche cosa abbiamo fatto in Champions perché vincendola potremmo essere in Champions partiamo però dalla Coppa Italia dove siamo passati agli ottavi ai quarti siamo usciti con il Napoli che poi ha perso con la Juventus la Juve poi ha vinto ai rigori quindi ha vinto la Coppa Italia anche quest'anno siamo usciti dalla Supercoppa Supercoppa che ha vinto anche questa la Juve in Champions League siamo passati come immaginavo come secondi Real Madrid come primo anche se comunque ce la siamo giocata non era un girone facile agli ottavi poi abbiamo avuto il Barcellona che abbiamo battuto una delle più toste della Champions League ai quarti abbiamo battuto il Bayern Monaco e ragazzi attenzione vediamo la semifinale dove abbiamo perso contro l'Arsenal dall'altra parte l'Atletico ha perso con il City peccato che quest'anno non facciamo neanche un punto perché abbiamo mancato anche la qualificazione in Champions quindi quest'anno zero trofei zero punti e come direbbe José Mourinho zero titoli queste sono invece le statistiche il miglior golador è stato anche quest'anno Nico González 23 gol quindi 73 gol complessivi in tre stagioni numeri veramente altissimi e 90 di overall Barak resta sempre il miglior assistman e sale con questi 12 assist a 32 assist totali e voglio aprire questa quarta stagione con Benjamin Sesco che potrebbe essere il nuovo Vlaovic anche se Vlaovic so che è venuto molto molto giovane ma Sesco secondo me è il giocatore più vicino e voglio provare ad offrire il cartellino di Beltran 38 milioni più il 10% secondo me è una brutta cifra 23 anni 83 di overall potrebbe crescere tanto e quindi eccolo qua Benjamin Sesco qualunque 28 non mi fa impazzire gliela cambierò però questo è un grande colpo per riconquistare la Champions League e tornare a vincere dei trofei e per la difesa sono andato a pescare Romagnoli che era finito alla Real Sociedad colpo importante l'ho pagata abbastanza sarà però una buonissima riserva al livello dei titolari 28 milioni questa quindi è la formazione con cui affronteremo questa quarta stagione mi piace veramente tanto forse l'unico punto debole è il centrocampo la panchina perché ho dovuto vendere il nostro Mandragora è andato all'Arsenal e quindi ci ritroviamo con alcuni giocatori che non sono un granchetto e finora in campionato siamo partiti anche abbastanza bene con due vittorie una tra l'altro contro il Milan se non sbaglio il girone di Europa League eccolo qua con Ran Young Boys e Apoel ovviamente punto al primo posto e quest'anno punto a vincerla e quest'anno ragazzi siamo arrivati ad un passo dallo scudetto secondo posto il Napoli lo rivince anche quest'anno staremo però in Champions League il prossimo anno quindi un punto l'abbiamo conquistato e ragazzi abbiamo vinto la Coppa Italia quindi terzo trofeo di questa Five Season Challenge e tre punti che si aggiungono al punto della qualificazione quindi quattro punti per questa stagione abbiamo battuto il Parma l'Inter ai quarti in semifinale il Monza sono stati fortunati e poi 2-1 sul Milan in Europa League invece a sorpresa passiamo al secondo posto quindi turno preliminare con l'Ajax che però battiamo molto molto bene agli ottavi il Villareal battuto 3-4 abbiamo avuto anche il Marsiglia anche 4-4 quindi sempre combattute come partite in semifinale lo Sporting siamo in finale e battiamo il Tottenham abbiamo vinto anche l'Europa League ragazzi quindi altro trofeo altri 4 punti che si aggiungono quindi 4 trofei totali con la Fiorentina davvero tanta tanta roba questa è la nostra squadra alla quarta stagione alla fine della quarta stagione che andrà ad affrontare l'ultima stagione una squadra molto forte la miglioreremo con gli ultimi due acquisti l'anno prossimo e l'acquisto di Sesco quest'anno è stato veramente tanta roba ma Nico González continua a segnare una macchina da gol 33 gol ci ha trascinato in campionato in Coppa Italia in Europa League veramente giocatore totale anche a livello di Assis è stato non il migliore ma è stato Brecalo Brecalo anche lui giocatore incredibile non pensavo sarebbe diventato così forte 19 gol e 15 assist e con questi assist Barak na fatti 6 supera Barak na classifica degli assist men e a livello di gol sempre Nico González con 106 gol ora ragazzi per quest'ultima stagione voglio prendere un sostituto di Barak qualcuno di un po' più giovane che possa anche magari già giocare titolare Barak comunque si alternerà sia con Baldanzi sia col nuovo giocatore ma per quest'anno abbiamo un piccolo problema ossia che abbiamo tanti giocatori in scadenza alcuni li ho lasciati in scadenza perché sono anziani e non c'è nessun problema se andranno via ma ci sono alcuni giocatori importanti come Enzola, Sottil e soprattutto Parisi che è titolare che sono in scadenza e purtroppo ragazzi non vogliono rinnovare perché voglio la cessione quindi quello che pensavo è di prendere un terzino sinistro abbastanza forte visto che anche Birag è in scadenza perché c'è il rischio che rimaniamo senza terzino prima però voglio prendere il centrocampista ragazzi e voglio prendere Molero che è finito al Monaco dovrebbe valere sui 60-70 milioni forse anche qualcosa di più ancora 23 anni lo giocherò come trequartista vogliono Barak però no Barak lo devo tenere e alla fine siamo riusciti a chiudere per 70 milioni che secondo me è una buonissima cifra questo è veramente un colpaccio per lo scudetto per la Champions League magari possiamo provare anche a fare il triplete ora non vorrei gufarmela però voglio vincere più trofei possibile questa stagione sto trattando per un terzino ma nel frattempo il momento della Supercoppa UEFA contro il Milan che quindi ha vinto la Champions League con una squadra particolare hanno mantenuto gran parte in realtà dei giocatori in 5 anni quindi insomma vuol dire che saranno cresciuti tanto vediamo un pochettino vinciamo col gol di Sesco all'89esimo cartello rosso per Pellegrino al 42 siccome era il loro punto debole ha segnato anche Nico Gonzalez Ogafron è bastato vinciamo un altro trofeo il quinto e altri due punti per la Supercoppa ed eccolo qua il nostro nuovo terzino sinistro per il momento riserva di Parisi ma comunque un giocatore giovane che possa giocare bene e che secondo me la Fiorentina potrebbe anche arrivare nella realtà Valentin Barco uno dei migliori talenti arriva dal Nottingham colpo secondo me realistico eccolo qua quindi Barco ed eccola qui quindi la formazione mi piace veramente tanto perché l'abbiamo costruita piano piano una squadra che secondo me potrà farci divertire una buona difesa un ottimo centrocampo un attacco secondo me stellare mi aspetto tanto da Sesco Brecalo e Gonzalez non mi devono deludere anche perché quest'anno in Champions League ci è andata piuttosto bene Monaco da cui abbiamo preso Molero quindi si saranno indeboliti PS Weindhoven e Red Bull Salisburgo un ottimo girone da passare almeno come primi e poi si vedrà cosa faremo e ce l'abbiamo fatta ragazzi campioni d'Italia vinciamo lo scudetto un punto di vantaggio sul Milan è bastato 86 punti primo trofeo che vinciamo importante dopo l'Europa League la Conference League vinciamo lo scudetto e quindi sono 10 punti per lo scudetto e un altro trofeo che si aggiunge ora andiamo a vedere la Supercoppa Italiana che abbiamo vinto 2-0 sul Milan quindi altri due punti per la Supercoppa Italiana abbiamo vinto nella semifinale contro l'Inter e poi battuto il Milan ora però ragazzi vediamo la Coppa Italia e anche questa l'abbiamo vinta contro il Milan in finale incredibile abbiamo battuto Lecce ai rigori agli ottavi abbiamo rischiato tantissimo abbiamo poi battuto 2-1 la Juventus in semifinale 8-2 il Cagliari siamo stati fortunati ora però sono curioso ragazzi per la Champions League nel girone ragazzi siamo arrivati i secondi dietro al Monaco che ha dominato e quindi a quanto pare hanno una bella bella squadra noi però avevamo Molero che spero ci abbia aiutato magari a vincere anche la Champions vedremo un pochettino agli ottavi abbiamo battuto il Sevilla 6-3 e ai quarti di finale ai rigori battuto il Milan incredibile ragazzi tutte contro il Milan meno male che l'abbiamo vinta l'abbiamo persa nemmeno una degli scontri diretti abbiamo battuto poi il City in semifinale dall'altra parte non l'Arsenal quest'anno che abbiamo battuto in semifinale ma il Paris Saint Germain che abbiamo battuto in finale e ragazzi altro trofeo il più importante sono 15 punti e un altro trofeo ora in totale questa stagione abbiamo vinti 5 le due supercoppe la Coppa Italia lo Scudetto e la Champions League ne avevamo 4 quindi in totale sono 9 trofei in 5 stagioni Nico Gonzalez ragazzi giocatore pazzesco 34 gol più dell'anno scorso non aveva fatti mi sa 32 o 33 quindi ha aumentato i suoi gol Brecalo però giocatore ragazzi che mi ha sorpreso di più forse anche più di Nico Gonzalez 20 gol e 16 assist per lui ed è stato il miglior assist man altri 16 assist a questo punto Nico e Brecalo sono i migliori assist man Ego Leador ci vediamo con il prossimo video 1000 like e altra squadra che vorreste vedere per questa 5 season challenge e niente ci vediamo alla prossima ciao a tutti e buone feste